Amici di Player Inside, oggi siamo qui per smontare la nostra PS5 No, io non la voglio smontare Invece la smontiamo, ma per una buona causa Perché vogliamo provare a farla trasformare, a renderla tutta nera Con i nuovi plates, le cover, insomma, dedicate Oh, questa non è una sponsorizzazione No, non è una sponsorizzazione Sembra quasi che uno dice no, no, no Però, insomma, ringraziamo Sony che ce l'ha mandato Esatto, esatto Allora, in realtà l'ha mandato a tantissimi, diciamo, influencer Di colori diversi, a caso No, allora, gli influencer possono essere dei colori che vogliono No, no Visto che quella per Sony con i faceplate non è una sponsorizzazione Però quella di Level Up sì E oggi vi diciamo quali sono i tre nostri gusti preferiti Esatto, perché non chiedevate altro, signori I nostri gusti preferiti sono Nuclear Galaxy Già, li deve leggere, non è un buon segno Attenzione Gummy Bomb e Burning Feather Ma perché? Sono tantissimi, ragazzi, i gusti di musica Ci siamo confusi pure noi In realtà, la cosa utile per voi è che c'è un ottimo sconto con il nostro codice Ovvero il 20% inserendo il codice Player Inside Vi facciamo vedere come si prepara Allora, anzitutto un misurino Non più di un misurino Sennò vi faccio cadere le mani Anzi, meno, possibilmente Ma più di un misurino, no Poi dovete avere più di 16 anni Sennò vi facciamo cadere le mani Dovete mettere l'acqua Sennò non ha senso Sennò non ha senso E vi facciamo cadere le mani Non sono pasti sostitutivi È soltanto un energy drink Che vi dà quella spinta in più Perché c'è un po' di caffeina Se volete leggere tutti gli ingredienti Li trovate sul sito ufficiale Dopodiché shakerate Sennò vi facciamo cadere le mani E poi voglio vedere A shakerare senza mani E poi bevete Con la bocca Sennò vi facciamo cadere le mani Però ora come ora non mi andava Ma era per farvi capire Quali sono i nostri degusti preferiti Ma potete scegliere Tra una vasta pletora di gusti E potete scegliere questi Link in descrizione, ragazzi Col codice sconto Adesso possiamo cominciare A smontare la PS5 Voi direte Potevate farlo e basta No, ci facciamo il video, signori Quindi non è che uno dice Per una giusta causa Per le views Sostanzialmente Ma non sappiamo neanche quanto Questo è un video Molto più ampassante Uno di quelli che uno dice Boh, lo pubblichiamo Se alla gente interessa bene Sennò sapete dove farvela gettare Però com'è che si smontano questi Ecco, ora lo leggiamo Perché ragazzi siamo totalmente in blind In blind, sì Allora, mettiamo da parte Questo colosso Senti Ai Ti sei tagliato? No È che tutto così gigante Nel mondo di Playstation Tranne le acquisizioni No, Raiden Mi raccomando Guarda, sono confezionati singolarmente Madonna E per mantenere la fragranza Però bello Bello, dai Il nero ci sta bene Ci sono i simboli di Playstation Allora, adesso Prendiamo la telecamera E cominciamo a vedere Che cabbo dobbiamo fare Intanto una cosa importante Spegni la PS5 Questa è una cosa che ci voleva Rimuovi i cavi di alimentazione Rimuovi la base Fin qui ci siamo arrivati Tra l'altro noi abbiamo la base Primo modello Quella che si trova a rimuovere Con la monetina Per cui un po' di scocciatura Però l'abbiamo rimossa Rimuovi la copertura superiore Tirandola leggermente verso l'alto Nella direzione della freccia Ma è una cosa Madonna, raga Disastro imminente Madonna Tirandola verso Rimuovi la copertura superiore Tirandola leggermente verso l'alto Anche perché poi cominciano le istruzioni In tedesco Quindi non Questo è Leggermente verso l'alto Io scasso tutto cose Vediamo Ma leggermente Qua mi sa di cosa forza ti Nella direzione Della freccia Ma la freccia fa strano Ma a parte che si smuove tutto qua Ma poi No ragazzi Finisce come la GS5 Pro qua Scusami eh Se io faccio così Tiro verso l'alto Verso l'alto Per come è indicato qua Cioè ragazzi Allora Facciamo vedere Ecco Qua dice la freccia così No ragazzi Io che sono un perfezionista E queste cose Mi sembra di rovinarla Tutorial su YouTube Ti deve tirare di poco E Ah C'è da dire Che tutto sommato Questo in relazione Al video delle console sporche Che abbiamo fatto Sempre su questo canale Noi non l'abbiamo mai pulita In un anno e mezzo E non fa schifo Ed è rimasta Peraltro in salotto Laddove Si fa più polvere Non sappiamo perché Ma si fa più polvere Quindi tutto sommato Vedete C'è un po' di polvere Sai che si è condensata All'interno Queste sono cazzate Tutto sommato È bella pulita Oh sono contento Questo vuol dire Che possiamo Non pulire il salotto Per altri anni Ah Sti rumori Li odio io Nelle console Ok Ragazzi Secondo me È già così È top No 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 Guarda Ha il suo perché Così Ha il suo perché Ragazzi Dai No Tutta nera Tutta nera Tutta nera Once you go black Inserisci la nuova copertura E l'abbiamo fatto Va bene Poi Ah Ma non la devi fare da là No c'è scritto No da qua c'è scritto Mi fai fare Ah Console ps5 edizione digitale No non è il nostro caso Secondo me è da là Ma Wow Ogni volta uno deve perdere Tutti sti anni di vita Devi perdere Oh tra l'altro Questo era necessario Per poter Cambiare eventualmente L'SSD Noi non l'abbiamo ancora cambiata Ragazzi Posso dire Che ha retto Un anno e mezzo Senza spolveramenti vari Bravo C'è un po' di condensa di polvere No Però poca poca Chi se ne fa Questa è una cazzata Questa si fa pure Dopo due giorni Dai Dai Fateci sapere Se pure voi Ce l'avete Nelle vostre Numerose PS5 Quello che vi consiglio di fare È anche Operare Una pulizia adeguata E per farlo Ci avvarremo Di strumenti Specifici Una cosa così si può fare Se però entrate troppo in profondità Se soffiate Rischiate di sputare Quindi non lo fate Quando ci sono i componenti Bene a vista Ah preziosi Preziosi Semiconduttori Ma lo sai che Sono talmente abituata A vederla bianca Che ora Non lo so Se mi piace nera Non lo so Adesso mi hai fatto fare Tutto sto brodello Vediamo Vediamo Facciamo così Vabbè Questo dovrebbe essere più easy No Cioè si mette così Uh easy easy Subito subito Fatto Bellissimo Va bene Va bene Oh e ce l'abbiamo E ce l'abbiamo Ragazzi L'abbiamo trasformata Era una console Che tutto sommato È rinata No Oh E ci sono anch'io Oh No è bella È bella È bella Mi devi dire Se però ti piace di più O di meno Allora sai cosa Con i led accesi Blu Forse fa la sua figura Fa la sua figura nera Secondo me È bellissima così ragazzi Questa è la PS5 Secondo me Best version E tra l'altro Si abbina perfettamente Al controller nero Che abbiamo già Anche se io preferisco Il dual sense bianco E la mid ne storta Cioè Scusateci Non sappiamo bene neanche Dove vogliamo andare a parare Quei video Cambiamo Facciamo meglio No Non si sa in realtà Allora A me devo dire Piace tanto E col fatto che ne abbiamo Una bianca e una nera Ragazzi Noi vorremmo che tutti Veste la vostra PS5 Non è colpa nostra Ne ne abbiamo tutte E noi Siamo contenti Ricordiamo sempre Noi l'abbiamo comprata L'abbiamo comprata Questa è quella che abbiamo comprata Proprio Questa è quella che abbiamo comprato Allora ragazzi Ci hanno inviato anche Uno dei nuovi dual sense Quello viola In realtà sono usciti Diversi colori Quello azzurro Quello fucsia Ragazzi Quello fucsia L'ho visto in un negozio Sì E me lo devo comprare Per forza L'hai visto Sì Quando siamo stati Da media world Da media world Me lo devo andare a comprare Per forza Quindi quello L'ho già ad occhiato E perché non te lo sei comprato Perché speri Che ce lo mandi Sony No Non sono così Io tu lo sai Se stai guardando questo video No 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 Me lo comprerò ragazzi Matematico È un bellissimo colore Viola spettacolare È un viola twitch Più bello però Allora Siccome Noi abbiamo già Il controller xboxer x Di questo colore Più o meno Viola Però Impestato Di un sacco Di altri colori Effettivamente Questo qua Si sposa E mi fa Pondon Questo è mio Questo è mio Questo è di tutti e due Che è sta cosa È mio e tuo Questo è nostro Possiamo usarlo Per la postazione twitch Perché è viola Ci sta no Molto bello E tra l'altro Secondo me Perché in live Ci anticipavano Alcuni in chat Dicevano Secondo me Ci sta di merda Nero con viola Invece Secondo me No Vabbè Ma tanto Non è che noi Dobbiamo giocare così La playstation È al suo posto E noi siamo Però Questa accoppiata Nero con viola Non ci sta male Secondo me Ci sta In viola Ci sta su tutto Non lo so Lo sai qual è la combinazione Perfetta Col controller xboxer Vi ringraziamo Per essere stati con noi In questo video Specialino Abbiamo detto Senti Registriamo Mentre facciamo Sta cosa Che magari Qualcuni Interessa Metti che si rompe La ps5 Almeno abbiamo Almeno facciamo Le views E ci consoliamo Esatto Abbiamo detto questo Per fortuna Non si è rotto niente Ora Le ditate Dalla parte lucida Chi le eleva Io ovviamente E ci vediamo Alla prossima Grazie Ciao Merda Si sono smontati I faceplate Si sono rimontati Sta tentando Di rimettere La base Forse qua L'ho attaccato Buono E Vediamo Il disastro Alla prossima Alla prossima